Cresce la preoccupazione dei sindaci della costa per le chiusure notturne in A14 che comporteranno inevitabilmente una nuova emergenza per il traffico pesante di viato sulla statale 16 per ben otto notti dalle 23 alle 6. L'incubo è che si verificano le situazioni già viste con ore di blocchi e traffico impazzito sulla costa, come già avvenne nel periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020 con ben 5.000 mezzi pesanti che si riversarono sulla statale 16, una condizione che con ogni probabilità produrrà un danno enorme per il turismo e nuovi disagi per i residenti. Ci aspettiamo giornate molto difficili, io dico sempre che i lavori ben vengano perché sono lavori necessari, lavori importanti, tra l'altro che provengono da linee guide del Ministero che sono volte a migliorare la sicurezza delle gallerie perché questa volta parliamo del consolidamento delle gallerie e quindi lungi di noi pensare che questi lavori non debbano farsi o tenersi. Il problema ovviamente poi è la compatibilità dell'arrivo dei turisti in questi giorni, sappiamo che cosa significa insomma un rallentamento del traffico sull'autostrada, non è solo un problema per il nostro territorio che ne risente immediatamente perché ovviamente raggiungere la località significa cercare di raggiungere un posto per riposarsi, più della volta i turisti arrivano stremati insomma dopo aver fatto ore e ore sull'autostrada. Abbiamo avuto rassicurazione da parte dell'autostrada che nel giro di qualche settimana verranno sospesi i lavori o almeno tutti quelli insomma che possono riguardare il giorno, ecco noi speriamo che l'autostrada mantenga fede a questo impegno perché altrimenti davvero sarà un'estate terribile da questo punto di vista. Ovviamente la preoccupazione è quella dei mezzi pesanti che andranno a percorrere le strade cittadine. Certo perché poi ci sono anche i momenti di chiusura che tra l'altro sono già stati annunciati, noi abbiamo visto i mezzi pesanti e soprattutto quelli eccezionali, cerchiamo di rincorrere per evitare i danni ma i danni poi inevitabilmente ci sono sulle strade, quindi come dire chiediamo come abbiamo già fatto qualche settimana fa in occasione di un incontro che l'autostrada insomma sia pronta anche a ripristinare i danni che ci sono sulle strade, che abbiamo delle strade discrete che sono pronte ad accogliere i turisti è davvero un peccato insomma che per via della sistemazione dell'arteria autostradale poi si facciano danni sulla nostra statale 16 o le strade urbane perché non tutti poi hanno strade diciamo di proprietà dell'ANAS.